Ben ritrovati per le previsioni meteo. L'Italia continua ad essere sotto una circolazione ciclonica che favorisce instabilità su parte del centro nord. Domani il minimo si sposterà nei Balcani e inizierà un graduale miglioramento a partire dalle regioni di nord ovest e dalla Sardegna, mentre continuerà ad essere piuttosto disturbato nelle regioni centrali adriatiche. Domenica ulteriore miglioramento in buona parte della penisola grazie all'avanzata di un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana che si affermerà con più decisioni ad inizio settimana prossima. In Abruzzo sarà un sabato ancora fortemente compromesso soprattutto nei settori orientali della regione dove l'istabilità diffusa sarà protagonista, andrà meglio in quelli occidentali. La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali ed il mare diverrà mosso. Le temperature minime di questa notte comprese tra 7 e 12 gradi e le massime di domani in diminuzione con valori compresi tra 10 e 15 gradi. L'appuntamento con il meteo è per domani mattina. Buona serata.